In the morning I'll be fine, in the morning I'll be right, if I go all the way Salve a tutti ragazzi, qui Medara e il nuovo video, nuova sponsorizzazione Allora ragazzi, sono davvero molto contento di sponsorizzare questo canale Perché sono dei ragazzi che ci mettono davvero molto impegno e fanno dei video davvero molto belli Allora, sono i Free Destiny Clan, sono dei ragazzi che giocano un clan Giocano a COD solo sniper, come si dice E fanno dei montaggi dei loro gameplay davvero molto belli Faccio dei primi 20 secondi di questo e io davvero ci sono rimasto perché davvero molto bello Grazie a tutti Bene ragazzi, direi che il video parla assolutamente da solo Già questi primi 20 secondi sono davvero molto belli Quindi iscrivetevi e seguite i loro video ragazzi, sono davvero molto bravi Quindi, per tutti gli altri Altri commenti ragazzi sotto per essere sponsorizzati E vi lascio al video di... Cos'è il video? Ah si, dell'FTB Ciao a tutti Salve a tutti ragazzi, qui Medara E non ho sistemato il pannello, lo stemmerò breve perché non avevo voglia ragazzi Non avevo voglia Oggi volevo però fare la Blast Furnace ragazzi Perché volevo farmi il feed, diciamo quella che era da mangiare alle bestie Però ci serve per farlo Aperte queste qua, le Soul Sand che non sono complicate da fare Questi qua i Magma Cream con Slime Bouddovemo Verde E le Blaze Pounder Quindi ragazzi, andiamo nel Nether intanto Ci vediamo là Bene ragazzi, l'ho trovata Ho fatto un po' di strada Nel momento ho raccolto un po' di Netherrack Un po' di Soul Sand E queste qua ragazzi le ho trovate Uccidendo i Slime con gli infernali Ok E queste qua le ho trovati distruggendo Aspettiamo se ne troviamo un pochi Non so se li vedete Aspettate che zoomo senza cadere Come si zoomava? Control, Shift Come si zoomava Z? No, Z si zooma la mappa No No Come si zoomava? Si abbassa nella Control Scusa No, Slime Abbiamo comunque Non so se vedete là in mezzo il picco zombie O anche là c'è una roba gialla Che ho scoperto che Se la mettiamo sulla Come si chiama? Sulla Centrifoglia Quella con cui abbiamo fatto i Bowler Quella che ci ha messo un macello a fare A fare i Bowler E Ecco Guardate la da basso sotto la Soul Sand Ci darà addirittura Il ferro Si, una dust di ferro Oltre a Un'altra cosa che non ho ben visto Quindi Potrebbe essere utile Guardate come lagga qua Una cosa assurda Cioè per Del cazzo della lava Lagga che è un macello Ok Ci sono già arrivati C'è già un Blaze Ho scoperto che Comunque senza slime E siamo un po' Nella cacca Ci sono tante slime Speriamo di non morire Siamo quasi Dai dai Muoviti Urco Sto per andare addosso Ok Sono quasi quasi giusti Molto bene Soprattutto che mi basti La spadina Ok Aspettiamo che segniamoci E si chiama Portezza Ok Vediamo se riusciamo A ucciderlo Testa bassa Ok Quando è così Vuol dire che è carico Appunto Quando invece è così Non è carico Spomenare Tranquillamente Blaze Mia Fortuna quella che la mente Ragazzi Se no la cadeva giù tutto Abbiamo un po' di questi Che ci servono E andiamo avanti Fino al prossimo Blaze Oh Buco Buco Sì non è buco Sono i cosi là Insomma avete capito Dai muoviti Quanto siamo? Non sta che da 64 Voglio metà Giusto 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 Metà Beh ragazzi Io li campero un po' E torno Oì Perché non mi si è rotto Ok Ragazzi Cosa è quello scheletro? L'avete mai visto voi? No Uuu Sto per cadere giù Perché? Si è diventato nero Mi è allenato in qualche modo Io non ho Tanto voglio di morire qua Oddio Come cazzo salta? Meglio scappare un po' Finché si può E ricaricare un po' di vita Aia Ecco Morto Speriamo di aver passato troppa roba Torno là ragazzi Ok ragazzi Dovrei aver Ritornato tutto Mi sono rimesso Avevo per fortuna Giusto le naga scale Di sopra Giusto Giusto per farmi Un'altra cesta Quindi me le sono fatte Ecco lo so Gli iron semplici ancora Si Ecco forse cosa ho perso allora Vabbè Non fa niente Anche la cesta L'avevo persa ragazzi Mi è caduta giù Dove? La cesta figa Adesso devo capire Dove sono i blades Qua ne ho uno Quindi posso fare 4 Di queste No 2 Male 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 I camper ancora un po' Anzi faccio vedere il mio camperaggio Faccio vedere a me che muoio Spero non ottenere assolutamente niente Che non c'è assolutamente niente Questi quattro stronzi Uno Aia Mori 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 Uh ottimo Questo qua è scarico Attaccato a fiche è scarico ragazzi Ok è andato un altro Qua ce n'è un altro Quindi c'è uno spawn qua vicino Lasciatelo scaricare Lasciatelo scaricare Dopo attaccatelo ragazzi Uh c'è Un mega Un mega Slime Dai All'assessi screed Beh non so Quanto Fio Possa essere stata questa mia idea Ho visto che c'è anche un ghast Qua vicino Vediamo Ecco morto Molto bene ragazzi Molto molto bene Molto molto bene Molto molto bene Almeno non siamo sulla lavalla Possiamo tornare Bene Eccoci qua Speriamo che Ci sia la roba E ci sia poca gente Cosa che non mi sembra proprio Bene Guardi posso ripiandare anche qua Tranquillamente Allo Dio quanta gente Dio quanta roba Ok mi sto trovando le robe E ritorniamo di tutto Perfetto Perfetto Abbiamo la spada Ci mettiamo su questo No Quanta roba ho perso Non so più roba adesso che prima Incredibile Ah no qua c'è ancora roba No Sono una cazzo di esperienza Basta Iata Morto però Mi uccide anche lui adesso Bene Ecco Ok basta Adesso ciò basta Torno là Mi riprendo le mie ultime Di pronto di materiale Mi basta un piccolo Di design Bene Dopo questo episodio Fade ragazzi Mi raccoglirò Tutte le cose Diciamo Devo andare a camperare Principalmente Le slime La Magma Il magma slime Quella là Per prendermi Le altre cose Come cazzo si chiamano Le Le blades Le gel Blades Diciamo Insomma Perché Le slime Qua su mondo reale Sono molto più difficili da trovare Quindi Direi che ci vediamo direttamente Quelle Ma ci vorranno una ventina Quindi ragazzi Spero vi stiano piaciuti I miei fail Se mi sono piaciuti Pollicione in su Commentino E Qua non scende giù niente Lo sistemano anche Lo so E Andiamo ad andare Anzi no Non è ancora tutto Perché io Ho fatto come avete detto E ho messo un'altra Appena sotto Andiamo a vedere Cosa è successo Andiamo a vedere Cos'è successo Qua Vedete Lui sta funzionando Perché vedete Che vengono fuori tutte le cose Ecco Ma non va Ma non va Comunque In ogni caso Non va Vabbè 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 Or Dio Zombie Muori 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 Che palle Dai Dai Ok Molto bene Mangiamoci Stocco qua Io direi che Intanto Mi incammino Verso il nether Per riprendermi le cose E stavolta davvero Dammi dare tutto ragazzi Ciao a tutti